Siamo qui riuniti per l'ultima cosa che rimane Si schiaccia tutto o tirami su? Mettilo davanti O sopra le bottiglie Perché si Si What the fuck? Let's go Guarda che io non riesco a frenare Non devi frenare Invece è un cazzo di muro, dovrei frenare Fatti in dirizio di là In dirizio dove? Di là C'è qualcosa di più di là Prendi le mani Ok, ce le hai? Il cazzo è andata di là Prenda Prenda No Miguel è tutto a posto? Faccio un po' Guardiamolo Turno Dai Ciao 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 Siete bellissimi raga! Siete bellissimi raga! Stai dimostrando? Stai uscendo il video! Bravo! Stiamo facendo pigamini della madonna! Sergio! Sergio! Ma aspetta, ce ne erano altri! Qui sto parlando! Tori! Occhio! Guardalo! Che triste! Ehi! No, come un evento! In realtà c'è il capitalismo! Il turismo non funziona! Mi dici, non stai vedi? Stai vedi? Stai vedi? Stai vedi? Però l'abbiamo finata! Ma ci sono tanti! Prova ad aspirarlo veramente! Siamo ancora qui! Era la seconda volta! Era la seconda volta! E qui c'è casa tua! Tu sei dormito alle 10 e mezza? E noi stiamo qua con alcuna cazzo di torta! Siamo qui con noi! Ok, siamo qui! A casa di Mirci! Andiamo a documentare gli effetti del coronavirus e della sua psicosi in pratica! Siamo qui! Mirci! Ok, siamo dentro! Io continuo! Cioè, nel senso, posso filmare, vero? Siamo qui! Siamo qui! A esplorare i meandri della città di Crema! Qua c'è un posto per mangiare! E giustamente siamo sotto un ponte! Arrivo! Ok! Siamo in montagna! No! 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 Che figata è questa! Come un dio! C'è un ospedale di Iniziaria daCampo! E' praticamente come nei film. No! Uno viene trascinato. E' tutta buona. E' tutta buona. Sono andata avanti. Oddio. E' tutta buona. Quanto è tutta buona? Stipolata! Stipolata! Wow! Non solo dai, ci dica, ci dica come si sente a tagliare il traguardo per primo. Massimo! Complimenti, complimenti! Odio tutti e tre i posti! Olè! Eeeeh! Questo è anche dimenticato. 3 3 3 1 2 1 no, proviamo c'è qua C'è qua? Eh no ma io non la inquadro la diga Ragazzi è la nostra spiaggia privata Che bello Quando verremo qua noi quattro Ci facciamo un mega bagno qua ragazzi Portiamo il costume Mi sto preparando mentalmente Mi sta registrando Dai Vai Vedi che anche lui esce così Non l'ho vista malissimo Grazie 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 Esatto E chi? Sei vivo? Oh ok Sì 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 Chi non batte lo sbatte Eh Chi non bene Chi non bene Sì Sì E' quella che hai schifato qui L'hai schifata Sono entrati perché questo non era un bar Ok Ho iniziato a filmare Questo non era un bar No Salutate E' per i nostri amici 3 2 1 3 Ok Sì Sì 3 2 1 3 2 Ok No 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 Non si crede Finalmente qualcuno mi ha fatto Esatto Mamma mia Madonna mia Ma questa cosa Struccia No Dobbiamo No 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 Ricordate E dite sempre in giro che questo non è un bar Non è un bar Aspetta un attimo Com'è? Non è un bar Ah ok Non è un bar Non è un bar Va bene ragazzi Vi salutiamo tutti Ciao Ciao Questo non è un bar No No Se la vestirà Fai una foto Vai te cara Guardate 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 Sì, non è vero. Bambini autistici, come trovarli? No, Brio. Lui è il nostro schiavo immigrato. L'abbiamo preso tipo per portarci i pesi, come si chiama? Lui è il nostro schiavo immigrato, però jugoslavo. Ah, che ho capito adesso. Lui è tipo quello che finisce i nostri pranzi e ci dà gioia. Invece qui abbiamo la rappresentazione dell'autismo, eccomi. C'è un po' di più. C'è un po' di più. Ma che figa... Che figo! Uooo! Ma è stupendo! Vai, vai! Dai! Finita! Finite! Stiamo tornando a casa. Abbiamo preso le castagne. Aspetta, ci sono anche sotto. No! Ho messo il cestino sopra, le castagne sopra i funghi. Ci sono schiacciati i frughi. E sono cadute anche tutte le castagne di qua. Eh vabbè, stiamo tornando a casa. Ciao! Allora ragazzi, siamo qui. Voi non siete venuti. Vi salutiamo tutti perché ci vedremo probabilmente nel 2021. E noi abbiamo portato il caldo del rost e il tè. E basta. Sì. Sicuramente c'è i piedi bagnati. Si vede da qua. Precisamente fallita. Sì. Tro�리. Sznooi. SABBIC! Sì! Siamo qua! A Malga Alta, sul Monte Porra. Quello è Ale, che sta provando a usare al Bob, dato che non l'ha mai usato. Ce la farà! Dai Ale! Oh, ce la fa! Ce la fa! Vai Ale! Ce l'ha fatta! Per amici è stato un anno divertente, un anno gioioso e questa è la ricompensa che i suoi amici gli vogliono regalare. Quindi non ce la vorremmo tornare più, perché ci sarà il caffè. Alla fine è andato bene. Non è stato così! Ciao a tutti! Ciao a tutti!